Salve a tutti ragazzi, sono Zetawillix, oggi sono qui con un nuovo video di GTA Online in cui vi mostrerò ben tre glitch in un solo video e sono tre glitch a dir poco epici. Nel primo glitch vi mostrerò come guidare al posto del passeggero ed è un glitch davvero stupendo in cui potrete stupire i vostri amici. Riguardo il secondo glitch vi mostrerò come diventare invisibili agli altri giocatori anche nelle sessioni pubbliche e nelle sessioni private dove vi pare i vostri amici o comunque sia le altre persone non riusciranno a vedervi grazie a questo glitch. Riguardo invece il terzo glitch vi mostrerò come sparare e guidare all'interno del garage. Prima di cominciare vi ricordo di lasciare un piacere anche perché ci vogliono solo due secondi e non tre, inscrivetevi al canale per altri contenuti, direi che possiamo cominciare subito. Allora, per prima cosa dovete impostare l'accesso ai veicoli su solo passeggero quindi una volta fatto ciò dovete praticamente fare una manovra sul muro in modo che riusciate a bloccare il posto del conducente, ovvero quello che guida l'auto quindi dovete bloccare il posto dove c'è il volante. Io qui infatti ho sbagliato perché poi ho rifatto la manovra al posto di impostare male il veicolo come vedete adesso nel video, invece adesso no, lo vedete con il veicolo nella posizione corretta. Quindi dovete appunto bloccare il posto dell'autista. Una volta fatto ciò dovete chiamare il vostro amico e quindi dovete fare una cosa tipo premere il tasto triangolo o comunque sia Y allo stesso tempo. Come fare? Praticamente voi dovete stare al posto dell'autista e il vostro amico deve aprire la portiera. Quindi una volta fatto ciò dovete fare una specie di roba tipo 1, 2, 3 e premete il tasto triangolo o comunque sia Y allo stesso tempo. Se riuscirete a fare esattamente o meglio correttamente questo glitch praticamente succederà che il vostro personaggio andrà al posto del passeggero quindi piloterà o meglio guiderà il veicolo al posto del passeggero con un volante invisibile. Il telefono è squillato ma io non taglio il video, non mi interessa e vado avanti. Quindi una volta fatto ciò dovete dire al vostro amico di uscire al veicolo e voi riuscirete a guidare il veicolo appunto al posto del passeggero. Come vedete nel video dovete cercare di essere più sincronizzati possibili. Magari quando vedete il vostro amico che sta per entrare nell'auto voi premete Y quindi non dovete premere voi che fate 3, 2, 1, via, subito il tasto Y. Ho aspettato giusto qualche mezzo secondo così e dovrebbe riuscirvi il glitch. Quindi come vedete questo è un glitch epico, guiderete un volante invisibile e i vostri amici dovrebbero vedervi al posto del passeggero e quindi stupirvi e farli stupire e non farli neanche capire come cazzo avete fatto. Passiamo adesso invece al secondo glitch. Ok adesso vi mostrerò questo glitch che è una cazzata tremenda da fare ed è davvero molto epico. Allora per prima cosa vi servirà un veicolo personale di un vostro amico e quindi un vostro amico. Il vostro amico dovrà impostare l'accesso al veicolo suo come accesso a tutti quindi una volta fatto ciò dovrà entrare in mezzo ad un attacco banda con il veicolo personale mentre voi siete nel posto del passeggero e quindi dovrà scatenare l'attacco banda e voi riuscirete ad andare al posto che era lui prima ovvero al posto del conducente. Quindi una volta fatto ciò il vostro amico dovrà scatenare l'attacco banda mentre voi siete all'interno del veicolo e una volta che il vostro amico avrà scatenato un attacco banda voi dovrete guidare il più lontano possibile dall'attacco banda. Una volta che avrete guidato il più possibile dall'attacco banda dovete dire al vostro amico di finire l'attacco banda e quando avrà finito l'attacco banda il gioco vi caccerà fuori automaticamente dal veicolo. Ecco, a questo punto dovete semplicemente rientrare velocemente dal veicolo e una volta che il gioco vi avrà cacciato automaticamente dal veicolo e una volta fatto ciò niente, sarete invisibili. Praticamente il vostro amico vi vedrà come appunto una persona invisibile è davvero molto molto semplice. Adesso vi mostro la prospettiva di una persona che vede questa persona invisibile e come vedete se la persona che ha fatto il glitch da invisibile esce dal veicolo comparirà dal nulla e se rientrerà nel veicolo invece scomparirà dal nulla sotto la mappa. È davvero molto molto figo. Adesso vi mostrerò l'ultimo glitch, anche questo è molto semplice. Allora, per prima cosa dovete andare sopra un veicolo personale qualsiasi del garage quindi una volta fatto ciò dovete dire a un vostro amico di mandarvi un messaggio una volta che vi ha mandato un messaggio deve uscire più velocemente possibile da GTA Online utilizzando la crocietta direzionale in giù o comunque sia il D-pad in giù e quindi scegliere uno dei tre personaggi qualsiasi subito dopo avervi mandato appunto questo messaggio deve farlo il più velocemente possibile. E all'improvviso il gioco si buggerà e quindi appunto riuscirete a guidare nel garage senza problemi. Addirittura potrete anche uscire dal veicolo e quindi utilizzare le armi e sparare all'interno del garage. potrete fare quello che vi pare, scendere e salire dal veicolo all'interno del garage, sparare ovunque addirittura le porte dell'ascensore se utilizzate il veicolo o anche normalmente si apriranno ed è davvero una figata assurda. E niente ragazzi, detto questo, per favore lasciate un mi piace, ci vogliono solamente due secondi di cliccare col bottone blu lasciate un mi piace alla pagina Facebook, se vi va troverete nella descrizione di questo video infine iscrivetevi al canale se non avete ancora fatto per altri contenuti da Zitoblix è tutto o al prossimo video! Grazie a tutti!